Buonasera, buonasera da Onda Tg in apertura alla cronaca e parliamo anche noi del divieto di dimora per il sindaco di Riace Mimmo Lucano, l'associazione Ubuntu Ollus che si occupa di accoglienza per i chiedenti asilo lo invita ufficialmente a Sulmona ovviamente a sue spese, sentiamo nel nostro servizio. Torna libero ma con il divieto di dimora nel comune di Riace, ma Sulmona scatta la solidarietà. La decisione del Tribunale del Riesame che ha stabilito la fine degli arresti domiciliari per Mimmo Lucano e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora, ha spinto l'associazione Ubuntu Ollus che si occupa di accoglienza dei migranti ad invitare il primo cittadino al momento sospeso a Sulmona dove la solidarietà era già scattata al momento dell'arresto con strigioni e cartelli affissi in vari punti della città. Dopo aver appreso con rammarico che il Tribunale del Riesame ha inflitto a sindaco Domenico Lucano la misura cautelare del divieto di dimora presso l'amato comune di Riace, considerato il grave pregiudizio derivante dall'allontanamento coattivo dai propri luoghi e in primis dalla propria abitazione, in nome dell'accoglienza fa sapere Ubuntu Ollus della resistenza ai soprusi e della necessità che si racconti e si tramandi il modello Riace, ha invitato a proprie spese il sindaco Mimmo Lucano a Sulmona, ringraziandolo sin da ora per quanto già fatto in Calabria, nella speranza che la giustizia faccia il suo corso e che il sindaco Mimmo possa presto tornare ad abbracciare i propri concittadini, un invito raccolto anche da altrimenti Valle Peligna e dal collettivo studentesco di Sulmona. Lucano era stato costretto in casa sua dallo scorso 2 ottobre quando venne arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti a due cooperative della zona. Per molti però è un simbolo dell'accoglienza per i migranti in Italia. Nel piccolo comune calabrese, primo cittadino, è riuscito a sviluppare un modello di integrazione apprezzato dalle organizzazioni umanitarie, studiato nelle università europee e raccontato dal grande e piccolo cinema. Da qui l'invito a Sulmona. Il crollo della scala mobile a Roma io salvo grazie a un messaggio spavento, respiro di sollievo per il mondo onesta, un uomo originario di Corfinio che ieri era lì al momento del crollo. Lo sentiamo. Era lì vicino al momento del crollo. Fortunatamente per lui è filato liscio perché stava scrivendo un messaggio da preso tempo ma sono stati momenti di panico e preoccupazione. In mezzo alla folla della capitale, nella linea A della metro di piazza Repubblica, c'era anche Raimondo Nesta, 43enne originario di Corfinio, che era assicurato subito ai suoi amici e familiari su Facebook. La stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa per il crollo di una scala mobile mentre erano presenti tifosi russi del CSKA visti saltare e ballare ubriachi sulla struttura. Ieri sera all'Olimpico era in programma Roma-CSKA Mosca per la Champions League. Alcuni degli stessi tifosi sarebbero rimasti incastrati fra le lamiere. Scesi in metro per raggiungere lo stadio, probabilmente ubriachi, i tifosi, secondo alcuni testimoni, si sono messi a saltare sulla scala mobile che alla fine è crollata. I feriti hanno lesioni principalmente alle gambe e diventi feriti di cui uno, in codice rosso, il primo bilancio del cedimento della scala mobile nell'elenco. Fortunatamente non c'è il giovane di Corfinio che, ironia della sorte, proprio ieri si trovava a Roma. Aveva fatto il biglietto, stava per introdursi nella metro, ma prima ha risposto a un messaggio che di fatto lo ha salvato. Questa volta, tante volte, come si dice, il telefono, il telefono, l'altro ieri è stato veramente, credo, di essermi salvato anche per questo motivo. Sono rimasti un po' scorso anche poi vedere tutti questi feriti che ci sono stati, quindi diciamo questa è stata un po' la dinamica dei fatti. Perfetto. Se in alcuni casi avere sempre il cellulare fra le mani non è consigliato, questa volta si è rivelato fondamentale. La cronaca ora ci porta sul Mona, auto contro furgone, rogambolesco incidente nella frazione Marane all'altezza del bivio di via Vicenne. Vediamo nel nostro servizio. Poteva andare peggio i due conducenti che questo pomeriggio si sono scontrati nella frazione Marane di Sulmona all'altezza del bivio di via Vicenne. Uno scontro rogambolesco che ha visto protagonisti un'auto e un furgone, ma fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato delle conseguenze dopo l'impatto. I conducenti infatti sono usciti illesi. Stando a una primissima ricostruzione dei fatti, l'auto viaggiava verso via Vicenne, la zona del Coggesa, mentre furgone procedeva in direzione Marane. L'impatto si sarebbe verificato nel delicato incrocio e i danni per i due veicoli sono ingenti. La scena insomma non è passata inosservata, ma la fortuna è stata che per gli occupanti non si è reso nemmeno necessario il ricorso alle cure mediche. Per i rilievi di rito è intervenuta la polizia. In tutt'altra zona, nella frazione Cantoni, a pochi passi dalla chiesa, si è verificato un altro incidente, anch'esso di lieve entità. È stata quindi una giornata tutt'altro che tranquilla per la viabilità cittadina. L'ora l'odissea delle scuole, temperature basse in classe, via alla protesta per i termosifoni. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Il calore pentino delle temperature ha fatto scattare la protesta delle famiglie questa mattina, soprattutto per la situazione dell'assilonido Isola Felice di Via L'Aquila. La colonina di Mercurio segnava 7 gradi perché si sa che di prima mattina la temperatura è sempre più fredda. Ma da Palazzo San Francesco hanno programmato l'accensione dei termosifoni a partire dal primo novembre, quando a scuola non c'entra di fatto nessuno perché è un giorno rosso sul calendario. Abbiamo accompagnato a scuola i nostri figli e con tanto di cappotto abbiamo subito avvertito il freddo. Incalzano in coro alcuni genitori che hanno chiesto spiegazioni e tramite alcuni referenti della scuola si sono rivolte agli uffici e agli amministratori di Palazzo San Francesco. Ci hanno spiegato che gli impianti di riscaldamento sono tarati dal primo novembre, ma non è possibile sopportare questa situazione. Chiediamo una deroga. A quanto stabilito concludono le famiglie che non trovano pace. Dalle palestre chiuse a servizio mensa che partirà in ritardo, ora arriva anche il freddo a mettere carne a cuocere. Non è migliore la situazione nei muspi dell'ex caserma Cesare Battisti dove sono arrivate altre rimostranze. Da Palazzo San Francesco si stanno attivando per verificare se esistono soluzioni a stretto giro dal punto di vista tecnico, tenendo conto delle richieste formulate dai genitori. Palestre delle scuole chiuse, impianti sportivi e raggi X, rischio la traversa sul Mona, lanciano l'allarme e gli organizzatori. Domenico Berlingeri nel servizio. Rischia di saltare la traversa sul Mona, la storica corsa su strada riproposta il 24 agosto 2017 dopo 33 anni su iniziativa dell'amatoria atletica Serafini che con il Corre Labruzzo ha programmato la nuova edizione per il prossimo 9 dicembre, ma l'evento potrebbe essere annullato. Lo fanno sapere i dirigenti della società sul Monese che attribuiscono le cause alla situazione confusa dello sport locale con ripercussioni in questi giorni sulle palestre e sugli impianti cittadini. Per l'amatori Serafini inoltre gli amministratori comunali starebbero evitando di intraprendere un dialogo finalizzato alla soluzione del problema e ciò non aiuta certamente, si regge in una nota, chi vuole mantenere sempre in alto l'immagine sportiva e turistica della città. L'intenzione degli organizzatori è quella di riportare quest'anno la traversa sul Mona nel periodo invernale, così come avveniva in passato, ripercorrendo lo stesso tracciato che rese famosa la manifestazione negli anni 70 quando fece registrare circa 7.000 partecipanti. Far saltare tutto rappresenterebbe una mazzata nei confronti di coloro che si sono impegnati a riportare un appuntamento di prestigio che unisce lo sport al divertimento, in quanto oltre all'aspetto agonistico sono previste iniziative di intrattenimento per bambini, ragazzi e le loro famiglie. E torniamo sulla pagina dell'economia del lavoro, la cessione, la vendita della Magneti Marelli, l'attenzione resta alta, la fiume CGL della provincia dell'Aquila rispedisce le rassicurazioni al mittente, sentiamo meglio nel nostro servizio. Non basteranno certo i proclami della direzione di stabilimento, né tantomeno le rassicurazioni del sindaco di Sulmona che a nostro avviso lascia trasparire eccessiva e imprudente fiducia nel futuro, nei riguardi di un'operazione della quale non si conoscono ad oggi termini e dettagli. La fiume CGL della provincia dell'Aquila e l'RSA fiume CGL di Sulmona non mollano sulla vendita della Magneti Marelli al gruppo giapponesi e vogliono vederci chiaro perché a loro dire contano le rassicurazioni di chi compra e non di chi vende. La fiume ritiene opportuno acquisire ulteriori e più dettagliate informazioni ed avviare un confronto con l'acquirente, l'unico oggi che può davvero fornire garanzie per il futuro dello stabilimento di Sulmona, piuttosto che stare ad ascoltare altisonanti proclami da parte di FCA che si accinge a vendere o addirittura messaggi di fiducia nel futuro e garanzie nel medio termine da parte di chi pensa di conoscere questa realtà per il semplice motivo di aver preso parte negli ultimi anni ai festeggiamenti aziendali per le festività natalizie e tuonano da sindacato, convinto che questa operazione si rivelerà un vero e proprio boomerang perché se prima poteva esserci un occhio di riguardo in quanto non semplici fornitori ma avere propri partner appartenenti alla stessa holding ovvero FCA, da oggi non sarà più così e questo potrebbe tradursi nella logica del nessuno sconto e in tutte le occasioni di errore, siano esse dovute al depotenziamento messo in atto negli anni precedenti o a scelte gestionali poco intelligenti che sistematicamente fanno ricadere la colpa sugli operai, lo stabilimento di Sulmona e i suoi lavoratori verranno continuamente messi in discussione andando a perdere di volta in volta credibilità e prestigio. La FIOM quindi resta preoccupata, tant'è che sta provvedendo all'affissione di un manifesto in azienda e già ha chiesto un incontro con i nuovi acquirenti perché le rassicurazioni annunciate le vuole toccare con mano. E ora la politica oltre le regionali, il centro-sinistra scalda i motori e cerca un'alternativa, vediamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Non un summit verso le regionali ma oltre le regionali con gli esperti della politica pronti a dare un contributo per la città, gettando le basi per il rilancio politico-amministrativo del capologo Peligno e del territorio. È stato questo il filo conduttore del vertice politico di ieri pomeriggio che ha chiamato a raccolta gli esponenti di centro-sinistra della politica cittadina. Dal consigliere comunale Fabio Pingo al suo assessore di riferimento Antonio Angelone passando per il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio fino ad arrivare al consigliere comunale di minoranza Francesco Perrotta e all'ex consigliere comunale Gianfranco Di Piero che sarebbe stato inglobato nel gruppo nell'ultimo periodo e chiamato per dare un contributo. Non un vertice che riarma la battaglia contro l'amministrazione comunale e il civismo gerosolimiano ma un tavolo che guarda futuro della città di Sulmona per creare quell'alternativa che la stessa città aspetta da troppo tempo. Insomma l'area del centro-sinistra cerca di riorganizzarsi su impulso anche di qualche sindaco del centro-abruzzo che avrebbe incalzato gli amministratori e non solo perché Sulmona torni a recitare il ruolo di città capofila ma il summit di ieri mira anche a creare un gruppo che non si faccia trovare impreparato quando finirà l'era Casini a prescindere se l'amministrazione si scioglierà anzi tempo o a conclusione della consigliatura. È stato un momento dedicato alla futura classe dirigente contro nessuno ma a favore solo di Sulmona. Non abbiamo dato né date né scadenze. La politica è tornata a ragionare e discutere anziché litigare ha commentato qualcuno. Verso le regionali e oltre il centro-sinistra si riorganizza al momento senza alcune delle altre forze politiche alle quali però è esteso l'appello. E ora il quartiere dell'ex deposito ARPA di Sulmona da riqualificare. Il Partito Democratico propone un concorso di idee. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Un concorso di idee per il recupero e la valorizzazione dell'area dell'ex deposito ARPA è stato lanciato a onda TG dal vice segretario del PD Carlo Piccone che si è interessato della vicenda dopo la proposta di petizione lanciata dagli amici di Antonio Ruffini, difensore dell'ambiente scomparso a giugno scorso per dedicare l'area in questione in sua perenne memoria. In realtà piazzale ed ex deposito sono di proprietà privata e anche un possibile sproprio allungherebbe di molto i tempi tenendo conto che per l'intitolazione di luoghi e piazze salvo alcune eccezioni devono decorrere dieci anni dalla morte. La norma non scoraggia però l'avvio della petizione anche se l'immobile e l'aria circostante restano al momento nelle mani della tua. Il PD Danto con il suo vice segretario Piccone propone un concorso di idee per rilanciare quel quartiere della città. Secondo i DEM piuttosto che lasciare l'aria nel degrado, piuttosto che vedere la realizzazione del solito condominio, si dovrebbe fare un concorso di idee aperto non solo ai professionisti ma a tutti i cittadini per acquisire proposte progettuali che portino a una migliore e più condivisa risistemazione dell'aria tramite nuova realizzazione o il recupero e la requalificazione della struttura esistente, magari puntando sul risultato che possa valorizzare culturalmente e socialmente lo spazio. Si risveglia quindi l'interesse per un'aria della città che tanto ha fatto riscudere nel passato ma è necessario prima risolvere le incompatibilità burocratiche e amministrative. Ora parliamo di rifiuti. Sei stazioni del Coggesa diventano centri di riciclo per elettrodomestici. Sentiamo nel nostro servizio. Le sei stazioni ecologiche gestire da Coggesa diventano centri di raccolta autorizzati per i fiori di apparecchiature elettriche e elettroniche. Gli elettrodomestici grandi e piccoli potranno essere portati nei centri di raccolta di Raiano, Capestrano, San Demetrio Nevestini, Castelvecchio Subeco, Castel di Sangro, Sulmona per essere avviati a riciclo. Prima però tutte queste apparecchiature elettroniche potranno essere smaltite consegnandole ai rivenditori di questo settore merceologico. Dall'estate scorsa è diventato più facile e gratuito. Il 22 luglio infatti è entrato in vigore il decreto 1 contro 0. Il provvedimento del Ministero dell'Ambiente consente ai cittadini di avviare a corretto riciclo i rifiuti di dimensione inferiore ai 25 centimetri arrivati a fine vita senza sborsare nulla. In sostanza telefonini, rasoi, spazzolini da denti elettrici, macchinine elettriche, giocattolo, tablet, lettori mp3, calcolatrici tascabili, lampadine, svegli e mouse, caricabatterie, termometri digitali, orologi da polso, da tasca e microcomputer per attività sportive si possono consegnare presso qualunque rivenditore di apparecchiature elettroniche con superficie di almeno 400 metri quadri senza essere costretti ad acquistare un nuovo prodotto equivalente. La disciplina relativa si applica a tutti gli elettrodomestici piccoli e grandi presenti nelle abitazioni e implica l'obbligo per i commercianti e i distributori di ritirare gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei consumatori che presso di loro comprano un'apparecchiatura nuova. Ne consegue che il negozio di elettrodomestici nel momento in cui vende un prodotto deve ritirare il vecchio che si trova nell'abitazione del cliente, purché il vecchio sia di tipo equivalente al nuovo e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura che deve essere destinata a un nucleo domestico. Nel caso in cui si trattasse di apparecchiature troppo grandi e che non vengono sostituite da un nuovo acquisto, Cogesa manterrà comunque un servizio di raccolta domiciliare gratuito ogni mese e mezzo per ognuno delle stesse altre comuni serviti, afferma l'amministratore unico di Cogesa, S.P.A. Vincenzo Margiotta. È un servizio che chiama in causa più attori nel processo del riciclo, i cittadini in primis, i rivenditori e le società e si va quindi a chiudere il circolo virtuoso del riciclo grazie a una collaborazione a tutti i livelli che è poi alla base del nostro obiettivo aziendale. Fare impresa con il turismo, vediamo quali sono le nuove opportunità grazie al bando diramato dalla Regione Abruzzo. A modernare, recuperare e ridurre la vulnerabilità del patrimonio turistico ricettivo esistente nella Regione, sostenere e promuovere strutture ricettive certificate e qualificate in armonia con l'ambiente, innescando un processo di miglioramento continuo del mercato dell'offerta turistico ricettiva. Sono questi gli obiettivi del bando per le imprese turistiche abruzzesi, diramato lo scorso 19 ottobre della Regione Abruzzo, che sarà oggetto di approfondimento questa sera nella rubrica di Un Occhio per Tutti, non dalle 21.30. A leggere e esaminare il bando ci penseranno il dottore commercialista Valerio Gianandrea e l'avvocato Francesco D'Antuono, entrambi di sviluppo impresa consulting. Riaprire uno sportello tramite il quale finanziare alcuni progetti di investimento sul turismo, in particolar modo sul settore alberghiero ed extraalberghiero. Questa legge, differentemente dalle altre, ha voluto indirizzare 12 milioni di euro nei confronti di alcuni interventi ben precisi e ben specificati all'interno del bando, tant'è che infatti il bando come obiettivi fondamentali, si pone quello della riduzione, del miglioramento delle strutture ricettive alberghiere e extraalberghiere da un punto di vista strutturale. Un bando rivolto alle imprese turistiche, ma l'articolo 6 dell'avviso pubblico indica quali siano effettivamente i destinatari degli interventi. L'articolo 6 prevede tra le attività ammissibili sia strutture ricettive alberghiere che extraalberghiere, strutture ricettive all'aria aperta, stabilimenti balneari, parchi divertimento permanenti, così come definiti dal decreto ministeriale 23 maggio del 2003. I progetti di investimento devono avere un importo minimo di 50 mila euro. Il contributo concesso dalla Regione è al massimo del 60% dell'investimento ammissibile, comunque non superiore a 150 mila euro. Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese che svolgono o che intendano svolgere attività di gestione delle strutture e gli enti no profit che gestiscono dette strutture esclusivamente per gli associati. Le domande dovranno pervenire entro le 12 del 16 febbraio 2019. Di turismo se ne parla in continuazione, dal momento che è questa la vera vocazione della Valle Pelinia. Il Monano non è stato mai in grado di recepire bene il turista, lo stavamo dicendo proprio poco fa con dei commercianti, sul Monano non riesce, non si capisce il motivo per cui non riescono a fare questa cosa qua. Come può essere più accessibile? Più pubblicità, almeno fuori dalla Regione e più accoglienza, ma vera accoglienza. Secondo me manca proprio il turismo, anche perché io credo che la città sia anche poco accogliente, infatti bisognerebbe fare qualcosa per coinvolgere un po' il turismo. Per me il turista c'è, però non viene accolto da persone che guidano questi turisti non solo per un percorso culturale, ma anche per un percorso di attività commerciali, che non sia soltanto il confetto, che non sia soltanto il prodotto tipico della zona, ma anche i commercianti stessi. E ora ci spostiamo a Roccaraso, in un certo senso, per parlare anche di turismo, perché la stagione scistica si annuncia piena di novità. E ce ne parla nel servizio Barbara Delemoni. Confermata la promozione 012, rinnovato il super sconto per gli abruzzesi e quello ancora più vantaggioso per i residenti dei centri della comunità montana dell'Alto Sangro. Ulteriormente è ampliata la convenzione per i comuni, che da quest'anno sarà estesa anche i centri dell'Alto Molise, che aderiscono al consorzio Assomab. E poi ancora semaforo verde per i pacchetti promozionali, comfort, stop and go e tre per te. E per chi vuole combinare l'acquisto dello ski pass con il doleggio dell'attrezzatura tecnica e con il pranzo in baita, strizzando l'occhio al portafoglio. Il conto alla rovescia per l'avvio della stagione scistica è già scattato e il consorzio Schi Pass Alto Sangro annuncia una montagna di notizie positive per gli avanti del Circo Bianco. Schi Pass Alto Sangro ha definito il listino dei prezzi che nella stagione 2018-2019 permetterà di sciare sugli oltre 100 km di piste del comprensorio scistico più grande attrezzato dell'Appennino, dotato del sistema di innevamento programmato più esteso d'Italia, che permette di sciare nei comuni di Roccaraso, Rivisondoli, Pesco Costanzo, Pescassero e Barrea. Tra le conferme più attese c'è sicuramente la promozione 012 che sotto la regia della DMC Alto Sangro Turismo assicura per le famiglie che soggiornano almeno quattro notti in uno degli hotel convenzionati nei periodi promozionali grandi vantaggi sullo ski pass, sulle lezioni di sci e sul bilietto d'ingresso al palazzetto del ghiaccio Bolino di Roccaraso. È un'offerta importante, strutturata per attrarre i ragazzi e le famiglie, ha spiegato il presidente del consorzio ski pass Alto Sangro Bonaventura Margadonna. Ci presentiamo sul mercato turistico con un prodotto di altissimo livello che viene costantemente potenziato in modo strategico. Sulle nostre piste anche quest'anno sono stati effettuati lavori per aumentare il livello di sicurezza degli sciatori con un'azione efficace di inerbimento, con più reti di protezione e una segnalitica rinnovata. C'è stato un ottenere potenziamento del sistema di innevamento programmato, ma le novità più interessanti, ha continuato, riguardano certamente gli impianti. A Monte Pratello in particolare ci sarà una nuova seggiovia quadriposto, alle Crete Rosse un nuovo script al Vannoncello. Alle Crete Rosse infine sta nascendo una nuova baita che amplia il ventaglio dei servizi per il food in pista. Si tratta di investimenti infrastrutturali importanti che seguono una roadmap, che da anni viaggia in maniera spedita e che sicuramente conoscerà ulteriori evoluzioni positive, capaci di rendere il comprensorio Schipass Altosangro ancora più competitivo. Ed ora l'atteso momento della buona notizia del giorno. Sarà inaugurata il 3 novembre la mostra informale incontro dell'artista pratorano Silvio Formichetti a Nova Milanese, l'appuntamento nel Centro Cultura di Villa Brivio alle 16.30. La personale è curata dall'architetto Antonio Lombardi di Greta Ritorno di Formichetti, Lombardia a distanza di circa otto anni. Si tratta in realtà del primo di altri progetti. L'incontro informale Formichetti percorre una ricerca intimista attraverso la quale fa esperienza di un percorso, di un dialogo verso e con Dio. Il travaglio dell'uomo in tutta la sua umanità diventa il cuore della continua esplorazione del pittore in cui la spiritualità viene costantemente vissuta con un senso di inadeguatezza fino a quando però l'uomo imparerà ad accettarsi e ad amare raggiungendo forse il traguardo di realizzazione spirituale. Per l'artista si tratta di un passaggio mistico come già visto in altre opere del passato. Il viaggio artistico prosegue così in costante formazione professionale e spirituale per un uomo la cui arte, la spendellata di colore vivo, si fa mezzo di riflessione e sentimento. Formichetti in passato ha collaborato con diversi artisti contemporanei di caratura nazionale e internazionale. Tra di loro si annoverano Vedova, Burri Fontana, Schifano, Finesporre, nel 2011 alla Biennale di Venezia, invitato da Vittorio Sgarbi, nel 2013 anche a Parlamento Europeo di Bruxelles. E dopo l'atteso momento della buona notizia del giorno ci spostiamo all'Aquila per parlare della seconda edizione della rassegna letteraria scrittori al centro. Domenico Berlingeri. Torna all'Aquila scrittori al centro la rassegna letteraria organizzata dalla Fondazione Carispac reduce dal successo della scorsa edizione grazie alla partecipazione tra gli altri di Sandro Veronesi e Stefano Bartezaghi. L'intento è quello di portare sempre nel centro storico aquilano grandi nomi della narrativa contemporanea ma anche del cinema, della saggistica e del giornalismo. Si partirà domani, giovedì 25 ottobre, con Paolo Genovese. Uno dei registi più conosciuti del panorama contemporaneo italiano e autore di commedie come Perfetti Sconosciuti, tutta colpa di Freud, verrà in una veste inedita che è quella di scrittore, anche se poi lui è sceneggiatore di quasi tutti i suoi film. Il libro si chiama Il primo giorno della mia vita, parla di quattro personaggi che hanno storie diverse ma che hanno un destino comune. Greta Salve, curatrice della rassegna, ha presentato il primo appuntamento con Paolo Genovese in programma domani alle 18 all'auditorium del parco insieme agli altri che si svolgeranno nella sede della fondazione il 24 novembre con Alessia Gazzola e Paola Barbato all'insegna del thriller e del noir e il 14 dicembre con lo scrittore giornalista Massimo Polidoro. Per sabato 3 novembre alle 16 a Palazzo dell'Ebiciclo ci sarà invece un evento speciale con Paolo Mieli sul centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Ci saranno filmati, ci saranno documentari, ci saranno foto, ci sarà la presenza anche del nostro consigliere Capezzali che ricorderà la figura di un aquilano decorato con la medaglia d'argento in relazione alla seconda guerra mondiale. Il presidente della fondazione Carispa, Marco Fanfani, ha sottolineato che scrittori al centro in questo 2018 torna definitivamente a casa con due degli appuntamenti ospitati nella ristrutturata sede di Palazzo dei Combattenti. Questa struttura è certamente straordinaria ma è una struttura pensata per il funzionamento amministrativo complessivamente della fondazione. La sala, l'auditorium, che è l'auditorium delle assemblee, per delle iniziative dirette con un numero contenuto perché non sono più di 80 posti, diciamo 90 posti, può essere utilizzata per iniziative proprie della fondazione. Ci auguriamo di poter utilizzare per delle altre iniziative anche altri spazi rendendoli anche agibili. L'Associazione Italiana Arbitri, sezione di Sulmona, Teodorico Bernacotto, la organizza un corso gratuito al quale possono partecipare ragazzi e ragazze con età compresa tra i 15 e i 34 anni. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2018 presso la sede sezionale sito in via Marselli 4, aperta da lunedì al venerdì dalle 17.45 alle 19.30, anche via mail all'indirizzo sul monachiocciola aia-figgic.it. All'idonei per ogni gara diretta verrà erogato un rimborso fornita gratuitamente la divisa ufficiale della Serie A senza contare che sarà possibile ottenere anche il credito scolastico formativo. Verrà inoltre rilasciata la tessera Figgic che permette l'ingresso gratuito in tutti gli stadi d'Italia. Per qualsiasi informazione si può contattare il numero 0864 34 720. Lo ripetiamo 0864 34 720 ed ora lo dico al Tg. E chiudiamo con lo dico al Tg, domande, segnalazioni, curiosità sulle notizie del giorno e non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Ondarivu con la diretta live di Ondarigi per non perdere il filo diretto con i nostri lettori e telespettatori. Vediamo allora quali sono stati i principali commenti che hanno segnato questa edizione. Scusate, ma è possibile tutti questi disservizi nei confronti dei cittadini, in particolar modo gli alunni? La latitanza di questa amministrazione sta superando ogni limite, ci scrivono. E poi sulla Marelli le dichiarazioni del nostro sindaco che dice di seguire da tempo la storia della Marelli e di aver avuto molti incontri con i sindacati sono poco credibili, visto che nessuno di loro l'ha mai né vista né sentita. E poi ancora ottima idea quella di Carlo Piccone con un concorso di idee su quell'area, si parla dell'ex deposito ARPA. Basta speculazioni edilizie ma riqualificazioni sì. E poi un altro commento che è arrivato proprio adesso. Se le riqualificazioni di quella zona proporrei qualcosa che alluda a corsi di sicurezza tipo un distaccamento esterno della protezione civile. Quindi vedete che arrivano anche delle proposte. E i film in programmazione, in molti salai vigilanti di Corfinio, Johnny Ingli ci colpisce ancora, la prossima proiezione è alle 21.10. Soldato, la prossima proiezione è alle 21.10. E a Star is Born, prossima proiezione è sempre alle 21.10. Vi ricordo, dopo di noi Abruzzo Notizie, il punto, alle 21.30 l'appuntamento del mercoledì con un occhio per tutti. Bene davvero tutto per questa edizione. Onda DG torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata. Grazie a tutti.